Nella provincia di Bergamo, Diego Sangagli, un giovane di 17 anni, tragicamente deceduto durante un'escursione al Pizzo Porola, il primo ottobre i suoi familiari hanno lanciato l'allarme quando non è tornato a casa, innescando immediate ricerche condotte dai vigili del fuoco di Clusoni, i staff di Bergamo, il soccorso alpino e i carabinieri. Il suo corpo è stato ritrovato più tardi in una zona difficile da raggiungere. Attualmente si sta cercando di comprendere le circostanze che hanno portato alla morte del giovane.